Il Paradiso 9, anticipazioni novembre, Marcello, senza scrupoli, vuole rovinare Umberto. Un'anteprima della prossima puntata del Paradisi delle Signore 9 di novembre mostra Marcello Barbieri spietato nei confronti del suo avversario Umberto Guarnieri. Marcello, che ha scoperto tutte le trame del capitano legate al caso della frode offer, non ha alcuna intenzione di lasciar scappare il capitano e il suo unico obiettivo è rovinare il suo futuro di imprenditore e la fama che ne consegue, lasciando il capitano senza intenzione di far scappare il capitano e distruggerlo, a livello internazionale, lo ha acquisito nel corso degli anni. Marcello spietato e vendicativo, anteprima del Paradisi delle Donne di novembre Marcello diventa il centro della storia melodrammatica. La sua testardaggine lo porta a decidere di arrivare fino in fondo per scoprire tutta la verità dietro il caso offer. Il compagno della contessa Adelaide scopre nuovi e interessanti indizi che lo mettono a confronto con il fratello Matteo. In quest'ultimo vengono svelati i dettagli del caso e la sua alleanza con Umberto Guarnieri, che lo ha ricattato in relazione all'operazione di Silvana, grazie a Umberto. Questa verità sarà difficile da accettare per Marcello. La donna ha ricevuto un trapianto di fegato negli Stati Uniti. Il tradimento di suo fratello lo colpisce profondamente, costringendolo a mettere in discussione il loro legame mentre deve trovare un modo per fidarsi di nuovo di suo fratello. Marcello Barbieri vuole distruggere Umberto. Marcello è disposto a tutto per discreditare il capitano Guarnieri. Il suo unico obiettivo principale è diffamare pubblicamente se stesso. Decide quindi di escogitare un piano per smascherare il comandante e far sapere a tutti la verità sul piano del comandante, che ha causato gravi perdite finanziarie al comandante e ad Adelaide a causa della frode offer. I tentativi di Adelaide di persuaderlo falliranno e Marcello deciderà di distruggere il suo nemico e sabotare le sue credenziali imprenditoriali. Il sapone continua a volare anche nella valutazione pomeridiana Il Paradisi delle Signore attende di svilupparsi, ma continua a registrare ascolti record su Rai 1 nel pomeriggio. L'episodio del 15 ottobre ha stabilito un nuovo massimo per la stagione 9 con uno share di circa il 20,30%. La serie ha raggiunto un picco di pubblico di 1,8 milioni di spettatori durante la sua corsa e la sua quota di mercato ha raggiunto il 23% alla fine della sua corsa. Grazie.